The Queen of Welfare, una che gira in Cadillac ma non lavora, prende gli assegni per quattro mariti morti che non esistono, per quattro veterani che non esistono, più vari assegni familiari per figli, poi ogni tanto rapiva un bambino, forse ammazzava qualcuno, insomma avete capito? La donna di cui parliamo oggi è il sogno bagnato del politico che vuole abbattere qualsiasi sistema di welfare e Reagan ne parlava dicendo di come aveva truffato tutti dai sistemi assicurativi ai sistemi pensionistici ai sistemi periveterani e fino a che qualcuno si è messo a cercare la verità, si pensava che fosse un'invenzione di Reagan e invece ne parliamo dopo la sigla. Unemployment about 7, only this time not 7%, more than 10, wasn't 6%, it was 12, 25% to 12%, a debt of 95 billion dollars, to add 95 billion dollars, to exceed 60 billion dollars, as much as 70 billion dollars, matched by a 28 billion dollar, took in 7 billion dollars. Now let's look at social security. The Washington establishment is not the answer, it's the problem. To me there's no greater tragedy, that's quite a Christmas present. Siamo nel 1976 e Ronald Reagan ha incentrato la sua campagna elettorale sull'abolizione del welfare. Questo perché il welfare adesso va ai neri. Non pago affitto. Non paghiamo l'affitto. Dai cazzo, siamo negri noi. Abbiamo casa, macchine, fighe. Poi vogliamo wifi. In realtà il welfare c'è dal 1929, quindi da quando ancora c'erano praticamente solo i bianchi e in realtà va anche ancora solo i bianchi, perché tendenzialmente i neri fanno i sudditi anche se non sono più schiavi. Lo sapete come funzionano le campagne elettorali? Ti scegli i casi che non ti piacciono e ci costruisci una narrativa. Per sostenere la sua tesi Reagan utilizza l'esempio di una donna di Chicago, Linda Taylor, una che ha capito come funziona il sistema del welfare e ne abusa. È perfetto. È l'esempio perfetto. Se vi chiedete quanti soldi riuscisse a fare, beh, girava in Cadillac. E quando la Cadillac si rompeva ne aveva un'altra e se si rompeva anche quella ne aveva un'altra, perché le Cadillac sono quelle macchine costose che vanno spesso in riparazione. Quindi prendine quattro per stare sicuro. Se invece vogliamo mettere una cifra prendeva circa 150.000 dollari l'anno in sussidi. Ora direte voi che significa che non lavorava? Beh, per arrivare a quelle cifre devi comunque un po' lavorare, quindi non iniziamo col sogno del passive income. Esattamente come avviene oggi, la politica cavalca l'onda dell'informazione. E in quel periodo su Chicago Tribune, che è un giornale che si pubblicizza come il miglior giornale del mondo, Bliss, che era considerato il miglior giornalista del miglior giornale del mondo, scrive una serie di articoli su questa truffatrice. In realtà andando a leggere gli articoli ci si rende conto che la critica non è tanto alla truffatrice, ma è ai piani alti della polizia che non fanno niente. Anche perché per Chicago non era proprio un periodo super rilassante, però tutti parlano della truffatrice. Perché diciamocelo, tutti vorrebbero prendere un sacco di soldi allo stato e stare sul divano. Poi ci si dimentica sempre tutto quello che c'è dietro, rapire bambini eccetera, però sul divano ci vorrebbero stare tutti. E quindi lei diventa famosa come la regina del welfare. Se avete visto con attenzione i documentari sulle grandi città e su quello che può fare la stampa, che ne so, Batman, sapete bene che quando l'opinione pubblica prende a cuore una faccenda, la polizia si sveglia. Comunque, l'arrestano, finisce in carcere, è condannata per un po' di anni e tutti si dimenticano di lei. No, certo che no, perché il fatto che lei sia stata arrestata e ininfluente, quello che conta è l'esempio. Conterebbe pure se non fosse vero, ma è vero, quindi rimane l'immaginario con l'idea che se aiuti i poveri, i poveri ti inculano. Figurativamente era una donna, però ti inculano e poi girano in Cadillac coi tuoi soldi. Ora penserete, guardo a che punto è il video, non è manco a metà, però leggo in carcere e quindi di che parliamo? Ma noi siamo i giocatori di Maxwell, vorremmo andare un po' più a fondo, vorremmo vedere chi era davvero Linda Taylor. Iniziamo dal fatto che si chiamava Martha Louise White ed era nata in Alabama intorno al 1926. Era quella che ai tempi veniva chiamata mezzo sangue. È un modo per dire che non sei abbastanza nero da essere nero, né abbastanza bianco da essere bianco. Però è anche un modo per dire che se te ne vai dall'Alabama puoi spacciarti per bianco se vuoi. Ora, se vi chiedeste cosa c'era di male nell'essere in Alabama, beh, diciamo che c'erano ancora le immigrazioni dei neri che andavano a prendere il cotone e poi se ne riandavano. E nell'Alabama nel nord scrivevano cose del tipo Ehi nero, non lasciare che il sole tramonti sopra di te qui. Che non era un invito a cerca di andare in posti migliori a morire, ma era un se aspetti troppo. O magari in Alabama erano vampiri. Magari avevano paura che la notte potevano fare del male ai neri e quindi gli consigliavano di andarsene. Magari abbiamo sempre capito poco le persone dell'Alabama. Non lo so. Ora, in tutti i video di truffatori abbiamo visto il defining moment, il momento in cui capiscono come truffare il sistema, dove è truffare il sistema e Marta lo capisce appunto spacciandosi per bianca in Alabama. Praticamente in Alabama ai tempi erano vietati i matrimoni misti. Quindi lei sembra intenzionata a sposare un uomo bianco e la portano in tribunale per stabilire quanto sia nera. Come lo stabilisci quanto uno è nero? Ecco, lo stabilisci così. Inizia a chiamare i testimoni per cercare di scoprire se il padre fosse bianco o nero, chiami gli amici, cerchi di scoprire se giocassi con i bianchi o con i neri da bambino. Per cui ho capito che nel mondo razzista la razza è comunque un'opinione. La storia della sua vita è un ginepraio. Intanto ai tempi del processo va a 14 anni ed è l'età in cui rimarrà incinta la prima volta. Poi rimarrà incinta di nuovo a 17 e poi siccome ogni tanto compaiono bambini, a volte anche molto più bianchi di quando ci si aspetterebbe da lei, non è neanche chiaro quanti figli abbia e quanti figli siano suoi e quanti figli siano per i sussidi. Tra l'altro in un'intervista a uno dei figli che supponiamo siano davvero suoi, dice che a volte questi figli apparivano e scomparivano per una settimana, un mese, tre mesi, e neanche ci prendeva il problema di dargli un nome. Tipo, hey little kid, hey champ, ricordiamoci i tempi che erano. Non è che dovevi dare i nomi a tutti i figli. Sapete quante persone ho conosciuto chiamate o Natale o Pasqualino? Non è forse pigrizia questa? Chiariamo come vuol dire che sei nato e come si chiama il tuo fratello minore? Undicesimo. Quindi non stiamo a criticare l'Alabama, siamo seri. Lasciamo per un momento i bambini da parte e andiamo al primo arresto. Anni 40 a Auckland, aveva affittato un appartamento, una stanza, non lo so, e il proprietario chiama la polizia perché dice che lei ha rotto il letto. Per cui lei dice, il proprietario ha cercato di infilarsi nel mio letto e io per difendermi ho dato dei colpi di coltello che però hanno mancato lui colpendo il letto ed ecco perché il letto ha dei colpi di coltello. E viene arrestato, cioè... In ogni caso, un breve periodo in carcere se lo fa e quando esce inizia la sua nuova carriera di medium. Cioè dice alla gente di avere i poteri magici! Ed è bellissimo perché inizia dicendo di essere portoricana, poi in base alla convenienza diventa anglosassone, poi in base alla convenienza diventa nera, poi in base alla convenienza diventa cinese. Come medium è piuttosto brava. Di solito i medium vogliono i tuoi soldi per curarti da qualcosa e lei invece va oltre, convince una donna che gli deve dare il suo figlio per usarlo a casa come domestico perché se non gli dà suo figlio utilizzerà le sue arti magiche per ucciderlo. Ora che ha un po' di tempo per riposarsi può iniziare una nuova vita e quindi si sposa nuovamente e si trasferisce in Louisiana. E nel frattempo a lei arrivano dei soldi che sembra che lei materializzi da nulla. In realtà sta già frodando il fisco e ha già due falsi mariti morti. Però il marito non le piace e quindi divorzia e poi si mette con un altro e poi gli ruba tutti i soldi che ha e i figli e scappa. E poi si rende conto che i figli sono una rottura di coglioni perché già ne aveva tanti e quindi molla i figli fuori dallo stato. E un'altra regola cosa è che non si capisce mai nella sua vita. Se li abbia presi con l'idea di venderli, di ammazzarli, di chiedere il reddit... Non lo so, non lo so. A questo punto è pronta per il periodo di Chicago. A Chicago arriva, va con sette bambini, sette, a chiedere l'assegno di mantenimento per tutti i figli visto che il marito è morto da veterano in guerra. Io non so come funzionassero i tempi perché poi i documenti li hanno trovati e c'erano miracoli. C'erano bambini nati a cinque mesi di distanza l'uno dall'altro che è tipo impossibile. A un certo punto riescono anche a intervistare uno dei figli e dice che lei aveva una stanza dove si travestiva con qualsiasi cosa ed è qui che viene fuori che si travestiva da infermiera e travestita da infermiera andava negli ospedali a prendere i bambini e probabilmente prendeva i bambini per cercare di venderli però che fai se non lo vendi? Quindi uno di questi bambini lo restituisce perché non lo so, è bruttino, non ho idea. E 40 anni dopo, questi si fanno un test del DNA e scoprono che non era davvero loro figlio. Per qualche motivo inspiegabile o per sbadattaggine sua aveva rapito il bambino a uno ma l'aveva restituito a un altro. Inizia adesso il periodo della sua vita in cui tutto cambia, diventa una persona buona, diventa una guaritrice e ovviamente può curare tutto, dalla sclerosi multiple, non importa, probabilmente se andavi là e avevi un male lei te lo poteva curare, bastava pagare. E scopre anche le truffe assicurative. Come funzionano le truffe assicurative? Lei assicurava delle cose inesistenti, dopodiché chiamava la polizia per dire che le erano state rubate e prendeva i soldi dell'assicurazione. Solo che ogni tanto becchi il detective un po' più zelante. Siamo a Chicago, moriva la gente, non è che tu chiamavi, mi hanno rubato il frigorifero, è quello, no, sì signora mi dica, aspetti prendiamo le impronte. Che adesso mi sono appena ricordato che è quello che hanno fatto quando sono entrati a casa mia a rubare, sono venuto i tizi, prendiamo le impronte e poi l'altro, marescià qua c'è tutte le impronte del piede. No, è quello del mio stivale, lascia perdere, giuro, è vero. Che figuraccia che mi hai fatto fa? Ma quale figuraccia? Siamo forti. In ogni caso, lei dice, mi hanno rubato il mio frigorifero nuovissimo con congelatore, macchina del ghiaccio eccetera e sicuramente sono passati alla finestra perché non c'è nessun segno di infrazione e lui guarda la finestra e la finestra è tipo così. Comunque la cosa non è quella, è che per puro caso lui si ricorda che tre anni prima aveva lavorato a un caso che era molto simile. La donna era diversa, era più anziana, però aveva dei denti d'oro proprio come questa ed era un furto strano proprio come questo dove qualcuno era entrato senza segnale frazione, non aveva messo in disordine niente, aveva rubato soltanto alcuni oggetti specifici, insomma c'erano molte coincidenze strane e tra l'altro è lui che indagando su di lei poi troverà tante identità, una marea di truffe eccetera eccetera. Ora, una parte che non vi ho detto è che i guaritori a un certo punto ci prendono spesso un po' la mano e in un periodo in cui le droghe si trovano un po' ovunque, probabilmente aveva consigliato a una tizia con la sclerosi multipla di prendere eroina e altre cose e questa l'avevano trovata morta a casa sua. La cosa assurda è che questa cosa era successa tre giorni prima e sarà lo stesso detective a occuparsi di entrambi i casi senza sapere che la Taylor era coinvolta da entrambi, che coincidenza assurda. Il detective trova i casi di truffe, va dai sui superiori e dice ho trovato una che sta truffando il welfare, quelli sì, vabbè. Chicago ai tempi aveva 970 omicidi l'anno, stiamo parlando di tre al giorno probabilmente il tizio ha dato due schiaffi nel tuo lavoro ai casi veri però hai trovato tante identità false, ti dispiace buttare quel lavoro e quindi chiama un suo amico giornalista ed è così che la faccenda finisce sul tribune ed è così che Reagan inizia a parlarne ed è così che il caso diventa importante ed è così che la Taylor viene arrestata. Capite? Se Reagan non avesse parlato di lei facendo un esempio lei sarebbe stata ancora lì a truffare la gente. È sempre colpa dei politici. A dire la verità la condanna non è neanche esemplare perché le danno tre anni alla fine era una poveraccia che aveva truffato il welfare ma l'America è un paese bellissimo perché le danno tre anni lei esce e viene riarrestata dall'FBI per truffa per la parte federale delle pensioni rendetevi conto è come se voi finite in carcere in Italia uscite e c'è il tribunale del Belgio che in corte europee questa roba federale regionale degli Stati Uniti un pochino sarebbero risolvere quantomeno fatica i processi insieme però così è e quindi ritorna in carcere e poi uscirà da anziana andrà a vivere con un figlio di là non ci sono altre truffe se sono riuscito a mettere insieme un po' di cose per questo video lo dobbiamo a Josh Levin cioè Bliss scriveva su di lei però Josh ha iniziato a fare ricerche su di lei per capire da dove venisse il mito falso della tizia ricchissima col welfare che girava in Cadillac che poi ho scoperto che era vero per quanto riguarda la Taylor è morta nel 2002 quindi probabilmente possiamo parlare male di lei con questo è tutto se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e se proprio volete fare l'extra mile Patreon sempre in descrizione a presto